Nello studio di uomini e donne si scaldano gli animi con la sfilata delle dame con il tema, ti lascio senza fiato. In particolare quando sale sulla passarella Aurora Tropea si accendono le polemiche. Ma non mancano anche nelle successive sfilate. La prima a sfilare è Gemma Galgani. La quale propone una sua versione della scena del celebre film Pretty Woman in cui Richard Gere suona il pianoforte di fronte a Julia Roberts. E Gianni Sperti vorrebbe dar vita a uno show. Facendo sì che la dama torinese si esibisca con Silvio in questa scena. Che nelle pellicola è molto passionale. Dai fallo per me, chiede Gianni. Ma Gemma dopo aver fatto la sua sfilata. Mostrando la sua sensualità e dando vita a un momento indimenticabile. La Galgani non si tira mai indietro e in questi casi riesce sempre a sorprendere tutti. Dopo di lei sfila Roberta di Padua. Ma non colpisce più di tanto. In quanto non porta sulla passerella qualcosa di originale. Ed ecco che arriva Aurora vestita da gatta. La sua esibizione scatena Gianni e Tina Cipollari. Oserei dire orrenda. Orribile. Una delle esibizioni più brutte. Afferma la seconda. Aurora cerca di prendere il tutto con ironia e regala a Gianni una tazza. L'opinionista accetta il dono. Ma non cambierà per questo la sua posizione. Grande para asterisco asterisco la. Accetto il regalo. Ma sappi che rimarrai sempre te stesso. Te lo dico. La sfilata era orribile. Io ti ho detto che è stato orribile vedendoti con un topo in bocca. Altre polemiche nascono con Paola. La quale dà vita a un'esibizione inaspettata. Con un lungo abito e un cuscino. La dama tanto discussa mette in scena una scena struggente. Mentre appare triste e pronta a piangere. Ma avete scambiato la passerella per un modo di fare i provini per un film? Chiede Gianni Sperti. Claudio ammette che fa fatica a credere ciò che dice ed entra in scena Armando incarnato. Esce fuori che Paola è stata giudice in una giuria che valuta le pizze in una pizzeria. Grazie a tutti.